E sono 5. La LPR Volley Piacenza batte anche la Top Volley Latina e sale a quota 12 in classifica che valgono il sesto posto immediatamente dietro le grandi. È la seconda vittoria da tre punti consecutiva per Piacenza dopo quella di Sora martedì scorso. Ancora una volta è stata una partita giocata punto a punto. La partenza sprombattuto dei piacentini ha infatti tratto in inganno perché poi Latina ha trovato le misure grazie anche a qualche errore di troppo dei piacentini. L'opposto cubano Hernandez si è comunque confermato bomber di razza mettendo a terra tantissimi palloni ma ancora una volta il francese Clevenot si è dimostrato un ottimo acquisto. Bene anche Marshall Latina è invece riuscita nel terzo set a sfruttare i blackout piacentini grazie soprattutto al muro. Alla fine i laziali ne hanno messi a segno ben 18 ma non è bastato. Con questa vittoria la LPR Volley agguanta il sesto posto in graduatoria.